Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, l'avrete dedotto dal titolo, questo video è il Q&A... Italiano versus... no! Non è l'italiano versus toscano. È il Q&A sulla proposta in generale. Voi ora... ho visto le domande, quindi spaziamo un po' su diversi argomenti. Quindi te fai sia l'intervista che l'intervistata. Sì, vabbè, non è che l'inter... bravo, esatto, non è un'intervista a te. Perché... Jimmy prima di iniziare fa... parlerò un monte di... No, ho paura delle domande che verranno fatte, però... Allora, io inizierei su una che è un po' la... diciamo un po' la base. Vai. Che mi ha fatto un po' riflettere. E... è... te l'aspettavi... quindi riferita a me... te l'aspettavi almeno un po' o ne avevate mai parlato? Beh, la seconda è facile. Io mi focalizzerai un po' sulla seconda parte. Ne avevamo mai parlato. Allora... Forse anche fin troppo. Soprattutto nell'ultimo periodo. C'è da dire che noi stiamo insieme da undici anni. E secondo me, in una relazione così lunga, dove ci ha portato dai vent'anni fino ai trenta, se non c'era quell'intenzione e se non ne avessimo già parlato, non saremmo qui oggi. Perché comunque... Arrivi a un certo punto che superi, no, gli anni della conoscenza, eccetera, incominci a maturare, andare a vivere insieme. E a un certo punto, non so, io... ci siamo guardati negli occhi e gli ho detto... La nostra intenzione è quella, no? Cioè, perché se no cosa si sta insieme a fare? Ma anche alcuni progetti sarebbero stati inutili da portare avanti. Poi, sicuramente, per stare insieme per tutta la vita non c'è bisogno del matrimonio, che alla fine è solo un contratto, si sa. Però, a me personalmente, e qui rispondo a un'altra delle diecimila domande, io ci tengo al matrimonio. Ma più per, come tipo punto di... tipo turning point, non lo so, è un punto fermo... Stai ridendo? Poi mi dirò il motivo. Però è proprio un... il punto fermo che dice, ok, per sempre. E sarò sincera, da quando c'è stata la proposta, ho una sensazione diversa rispetto a noi. Per quanto non sia assolutamente cambiato niente, però il fatto di sapere che anche per lui è per sempre... Boh, io mi sento diversa, cioè mi sento tipo... Chiariamo una cosa. Già prima dicevo tutto, ora posso essere ancora di più... non so, mi stessa. Allora, è verissimo, concordo pienamente. E poi il giorno del matrimonio per me è proprio una festa, quindi a me piace festeggiare... Ed è bello festeggiarci, a noi ci piace molto questa cosa. Esatto. E poi, so che qui magari non tutti saranno d'accordo, però io sono fatta così. Per me, personalmente, era molto importante, o è molto importante, sposare... cioè, fare le cose step by step. E quindi io, personalmente, poi nel momento in cui arriva, non si può... Se arriva, non puoi dire sì, no, oddio, non ha rispettato la timeline o la time schedule. Però mi piacerebbe sposarmi prima di avere figli. Ma è proprio un mio... cioè, non lo so, ti piace il faro o ti piace il riso? Ecco, una preferenza. Il faro. Che similità, che esempio! Va bene, originale. Cioè, nella mia concezione, mi piacerebbe avere prima il matrimonio e poi figli. Ovvio che se nel frattempo, da qui a un anno e mezzo, ora ne parleremo, succede, e non è che dico, no, scusa, è troppo presto. Guarda, in questo periodo sarebbe proprio il periodo peggiore, perché arrivereste con quella bella pancia in matrimonio, rischiereste di arrivare con la pancia. No, forse no. Però vabbè, insomma, non sarebbe un problema. Però, idealmente, se posso fare le cose come vorrei, questi erano un pochino gli step, quindi sono anche felice. Quindi hai appena introdotto che il prossimo step è un figlio. No, per un step è un matrimonio. Spoiler! Spoilerone! Attenzione! Oioi, mi piacerebbe avere un figlio, può essere, non lo so, sono ancora in fase, non mi piacciono i bambini. Però, dopo aver passato l'estate con i nostri nipotini, mi sono un po' sciolta. Però, se arriva, sono felicissima. Andiamo avanti sulla prossima domanda. No, perché sennò poi apriamo il mondo felice. Esatto. Non andrei volerlo. Allora. E allora poi andrei al... al giorno. Vai. Se vogliamo un po' descrivere com'è stato, perché in tanti si chiedono come ho fatto a non sospettare di nulla e come ho fatto a non vedere il malloppone che avevi in tasca. Allora, voi dovete sapere che intanto, premessa, l'anello, io ce l'ho da metà giugno. Io me lo sono ingenuamente portato con me tutta l'estate, perché la mia prima idea era di darlo a Silvia. a me piaceva moltissimo lo scenario della Val d'Orcia. Quindi me lo sono portato con me e ho detto, vabbè, andiamo 20 giorni a luglio, un giorno andiamo a farci un giro, sperando che non siamo i 50 gradi e quant'altro. Poi ho ripensato che ho fatto una bischerata. Io non potevo darlo prima di settembre a Silvia, perché per alcune dinamiche un po' familiari, cioè banalmente... Si sposava mio fratello. Il fratello di Silvia si sposava e non mi sembrava assolutamente opportuno far presentare Silvia con un anello al dito in quel momento. Quindi, morale, è slittato tutto. Me lo sono tenuto un'estate intera con me, col rischio che lei lo scoprisse. Io non ne avevo idea e soprattutto è stato un'estate di pressing. Visto che, non lo so, io avevo iniziato a un certo punto a avere un po', anche un po' la voglia, no? Cioè, volevo sposarmi, sì. Ok, volevo sposarmi. E quindi ho cominciato... Tanto d'estate arriva sempre questo momento, perché d'estate inizia il periodo dei matrimoni, inizia a vedere un sacco di matrimoni, Quindi ogni matrimonio, dicevo, quelli potremmo essere noi. Però ragazzi, il pressing totale è arrivato il giorno 14 agosto. Ore mezzanotte e 18. Mettile in sovrimpressione queste immagini. Mezzanotte e 18. No, vado lì a fargliele vedere. A mezzanotte e 18 io faccio questo screen. Vabbè, io non ho reagito neanche in sovrimpressione. A mezzanotte e 20 io gli faccio vedere questa foto e gli dico Tesoro, ma ti piace questa location? Perché eravamo a quel livello, cioè io faccio quel pressing. E lui, sì, sì, bellina, gli faccio Amore, ma non ti ci vedi? Don't worry! Ti ci faccio vedere io! Che trescia! Anzi, ho appiccicato noi due che camminiamo e gli ho detto, non sei sicuro? Tranquillo. Ci vediamo molto bene! Ma vi immaginate voi che una sera lei si presenta con questa foto? Guarda come camminiamo bene giù down the aisle, bellissimo. E sono seria quando dico che è del 14 agosto. Quindi immaginatevi voi, io da metà giugno, tutte le volte mi faceva queste cose, mi faceva... Io me la ridevo dentro e dicevo, sì, sì, vabbè, ok. Tanto non c'è quello, non c'è l'anello, quindi... Morale, torniamo a noi. Allora, slittando a settembre, la prima data utile poteva essere il viaggio in Irlanda. Però, essendo un viaggio di lavoro, non potevo neanche prevedere bene le situazioni, quindi ho preferito evitare. Inoltre, intorno al 26-27 di settembre, saremmo andati a fare il trentesimo di uno dei miei migliori amici a Roma. A metà agosto mi vedo con questi miei amici e loro, anche il festeggiato, mi propone... Perché non fai la proposta, Silvia, in quei giorni là? A quel punto mi sono fatto... Grazie, amici. A quel punto mi sono fatto due domande. Ho detto, allora, com'è Roma come scenario? Beh, direi, com'è Roma di scenario. Non è che ce ne sia... Direi che poteva andare molto peggio come scenario. A quel punto mi sono deciso. Quindi è stato un po' lungo l'arrivo, però... È stato merito degli amici e... Non è vero, no, non è vero. E allora qui ne approfitto, scusa, per rispondere anche a un'altra domanda che è un po' anche quella un po' blasonata, del tipo, ma chi vi ha fatto il video? Perché, non lo so, ogni volta che uno proposta su Instagram un video, allora è finto. Allora, qui pensavo di... Qui penso che ora potete mettere insieme uno più uno. Jimmy, il giorno della proposta, ha soldato il gruppo di amici che avevamo. Io, Silvia e tre miei amici. E due hanno fatto il video. E uno le foto. E uno le foto, esatto. E come è andata quel giorno? Quel giorno è andata che la mattina era un venerdì, siamo usciti per girare per Roma, ma io quel giorno ero veramente stanca. Ma stanca, raga. Cioè, io non avevo voglia di fare niente. Perché io, in realtà, quando inizio a rilassarmi, divento una meba. Vabbè, questo si sa. Però, quel giorno proprio stanca, era mattina. Sì, eravamo in zona fuori romani e i suoi amici erano andati a vedere i fori. E io sapevo che Jimmy aveva prenotato per le due un aperitivo in terrazza. E fatalità, in quel momento, eravamo proprio sotto quella terrazza. E lui mi fa, no, dobbiamo andare a fare delle foto che ci fanno i nostri amici fronte Colosseo. Non è vero, non te l'ho postato così. Ti ho solo detto, no, guarda, volevo andare a fare due foto e un video carino, bellino, magari anche da postare, al Colosseo. E io, tipo, guarda, vado laggiù. No, no, col cacchio che ci vengo. Siamo già qua. Siamo già qua. Rimaniamo qua, aspettiamo. Rimaniamo qui, aspettiamo le due. La terrazza si va a fare l'aperitivo. Lui lo vedeva incazzatissimo. No, no, non mi sono agitato subito. Detto di me il fuocherello ardeva sempre di mio. Sì. Io proprio, cioè, mi ero proprio seduta, io non mi siedo mai. Mi sono seduta su una panca e gli faccio, io aspetto qui. Ci chiamano i suoi amici, ci fanno, guardate, noi stiamo uscendo al Colosseo e io ho detto, che palle, va bene, andiamo a sto Colosseo. Ovviamente perché io avevo scritto ai miei amici, guardate, qui sta andando tutto all'aria, chiamateci dicendoci, cioè, ordinandoci praticamente di venire in là da voi. Allora, saliamo, insomma, arriviamo in questo spazio che c'è un giardinetto accanto al Colosseo, un po' in alto, dove tendenzialmente non c'è tantissima gente, non lo conosce quasi nessuno. Strano. E io per salire su sto giardinetto, vi giuro, io mi arrancavo, quasi sui gomiti, vedo lui che si girava tipo disperato, ma guarda questa. Poi cosa succede? Iniziamo a fare due... Quel momento è stato bruttissimo. Iniziamo a fare due scatti, due foto così con il telefono, davanti al Colosseo. Poi lui fa... Ok, allora, ora fotocamera. Eh, aspetta, no, 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 aspetta. Io, prima di salire a quel parchetto, ho fatto un mezzo errore. Non ho tirato fuori subito l'anello, perché oggettivamente la scatolina era un po' ingombrante e avevo paura che me la vedesse. Quindi, lì per lì non l'ho tirato fuori. Morale, quando siamo arrivati lì, ci siamo fatti queste prime foto, ma io non avevo tirato fuori l'anello. Non avevo l'anello. Allora è successo così. Lui mi guarda e mi fa, senti dai, facciamo le ultime due foto con la macchina fotografica, gliela do ai miei amici, perché la macchina fotografica era di Jimmy. Esatto. Cosa succede? Che lui aveva soldati i suoi amici per farci video. E i loro amici, io mi immagino il pressing che gli ha messo, i loro amici erano in apprensione. Quindi l'altro suo amico, il festeggiato, nonostante Jimmy fosse andato a prendere la fotocamera e tutto, è rimasto così a farmi il video. Quindi io ci sono, cioè c'è proprio il video, ora ve lo metto, ci sono, vedi, io che mi sto facendo i fatti miei, poi a un certo punto noto questa fotocamera negli occhi, che poi è gente... Mi immagino la scena. No, no, sì, sì, così. È gente non social e solitamente non utilizziamo il telefono quando siamo fra di noi, quindi è per quello e lui mi ha fatto un po' strano. Quindi tipo, si vede proprio nel video che lo guardo, faccio Jamma, Jammarco, anche lui. Vabbè. Vabbè, io Jimmy e lui Jamma. Jamma. Ora vedi proprio lui che fa così, tipo nasconde il telefono, ma continua a registrare, si avvicini, e si nasconde dietro Jimmy. Quindi ovviamente il mio sguardo va lì, va lì davanti a me e vedo sti magheggi. Nel frattempo, ovviamente lei era, ripetiamolo, scazzatissima. Sì, si vede dal cielo. A un certo punto io mentre tiravo fuori la fotocamera, ho guardato, non sapevo come tirare fuori, perché avevo, vedevo, con la coda dell'occhio, io ho visto che Silvia mi osservava. E c'era Jamma con sto video così, dietro io non capivo cosa sta succedendo. per quel motivo lì, quindi mi sono sentito osservato e non sapevo come prendere la scatolina, che comunque aveva anche il cingombro. Quindi guardo un mio amico e faccio, abortiamo il programma, perché no, no. Però ho detto, no, va, sì che ho preso sta scatolina, mi sono un po' girato per cercare di non fargli vedere, me la sono conficcata in tasca, tra poco spacco tutta la tasca, perché nella pensione. E io devo dire che vedendo sti magheggi così, qualcosa ho percepito, però vi dirò, cioè, è stato talmente tutto veloce che poteva tirar, cioè, non ho pensato, forse l'ho pensato, oddio sta succedendo, oddio, infatti i miei occhi sono tipo spippati, però in realtà poteva tirar fuori anche un biglietto per un concerto, poteva tirar fuori qualunque, ma non lo so, dentro la mia testa è nata un attimo in, tipo, era molto, secondo me, come situazione, visto che le sorprese l'ho fatte altre volte, il fatto che ci fossero tre persone a farci tutti questi contenuti, poteva essere un po' strano, però, cioè, non ho detto, dentro la mia testa, ho detto, oddio, oddio, mi sto facendo provare, cioè, sono andato un attimo tipo in shot mode, non ho capito nulla, che lui si è avvicinato, e non volevo neanche, cioè, in realtà, qualcuno ci ha fatto la domanda, cosa avete provato in quel momento? Sì. Ok, allora, dopo rispondo dicendo una cosa, sperando il perché ho voluto. Io ero abbastanza apatica, cioè, non capivo nulla, non capivo cosa stesse succedendo, ho capito che stava succedendo qualcosa, ma ho detto, cioè, c'avevo il cuore che incominciava a battere, insomma, e infatti poi quando si è inginocchiata, anche lì è successo talmente veloce. Cioè, devo dire una cosa bellissima prima. Allora, quando io ho dato tutto, ho preso l'anello, ho dato tutte le, la fotocamera in mano ai miei amici, quindi praticamente io torno da Silvia e ci mettiamo con le spalle a loro e guardiamo il Colosseo. Tipo così, tipo così, però lei era da quest'altra parte. Dove c'è il cuore. E faccio, guarda che bello, dai, sarà un video fighissimo e a un certo punto, improvvisamente, si sente pop 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 pop. Allora, lì, oggi mi prende, avevo un infarto. Infatti, nei video si vedeva che faccio. Amo! Oppure, era partito un momento, un attimo, emozionante. E niente, il cuore ha iniziato a partire per cavoli sua. Veramente, avrò avuto 200 battiti al minuto, non lo so. E sì che lì mi sono un attimo distaccato da Silvia. Ho detto, ora o mai più, basta. Avevo anche in mente di fare un mezzo discorsetto. E ho detto, no, no, vabbè, e allo, pam, non potevo fare altro. Quindi, subito. E io non ho neanche avuto il momento di dire di sì. Cioè, poi l'ho detto, sì, ho detto, oh, sì, comunque. Però... No, sì, l'hai detto, sì, l'hai detto. Allora, cosa hai provato subito dopo? Io ero veramente emozionato. Cioè, non era calcolato da parte mia che il cuore mi partisse a 2000, però, cioè, ero veramente emozionato nel vedere anche Silvia davanti a me. Al basso. E non si rendeva conto di quello che stava succedendo. No, totalmente. Io ve l'ho detto, apatia. Cioè, proprio... A un certo punto io la guardo e gli faccio, ti rendi conto di cosa sta succedendo? E devo dire... Lo vedi questa netta? Infatti io gli dico un netto. Ma devo dire che aver avuto foto e video fatti dai suoi amici è stato utile perché io ho proprio un vuoto e... È vero. E credo di aver riguardato quei video tipo 3000 volte perché ogni volta riguardavo, riridevo, ripiangevo o no? Io riso tutto il tempo però è stato veramente un reality check perché non... Tanta roba. Tutte le volte che ci ripenso dico meno male che ho fatto fare foto e video perché quei momenti ragazzi rimarranno sempre. Io magari me lo sono goduto un pizzico di più lei c'è veramente io ho visto la sua reazione e ero felice emozionato per lei però ragazzi io ho visto Silvia che anche quando ha iniziato a esultare ha iniziato a esultare perché ha visto un anello ma non esultava veramente fino in fondo perché quando poi siamo andati via di lì lei era ancora totalmente destabilizzata questa cosa veramente non me l'aspettavo non me lo sarei mai aspettato ma è molto comprensibile oggettivamente e meno male e meno male che infatti abbiamo questi momenti poi sarà che io esatto ok secondo me i video e le foto ok va bene lascia un ricordo fommelo dire sei capito se stas parlando a due di ste foto poi una domanda per me vai hai mai pensato di fargliela tu io vai ho mai pensato di fartela io allora io non so se questo lo sai però in realtà sì me l'hai detto quest'estate ah cioè me l'hai detto no me l'hai detto il 24 settembre 2024 cioè il suo compleanno al tuo compleanno mi fai a tavola mi hai detto no guarda perché c'è stato un momento riparlavamo sempre di proposta e quant'altro fa no perché anche perché se no poi è una certa te la faccio io direttamente sta proposta perché si parlava di scadenze allora vuoi che te la dico la risposta o la vuoi sapere la mia risposta hai detto non so se lo sai ma non la sai perché hai detto il 24 settembre ti ho detto che allora la faccio io allora non sai niente senti ascolta vuoi litigare vai sentiamo la convenzione quindi quando ci hai pensato di farmela no io ero pronta cioè io volevo fargliela e avevo pensato seriamente di fargliela durante il nostro viaggio di non nozze nel 2023 a maggio se ti ricordi io ti ho regalato un anello quella settimana praticamente è andata così che cosa devi dire ora scontatissimo scontatissimo perfetto va bene che io ti faccia la proposta non è scontatissimo che io ti facessi la proposta quell'anno lì tranquillo la domanda è se di me io ti ho fatto la proposta quindi per il nostro viaggio di non nozze per il nostro anniversario dello scorso anno maggio 2023 io avevo fatto fare a Jimmy un anello con scritto dentro indissolubili e glielo volevo dare come regalo di anniversario ma in realtà avevo anche riflettuto e pensato di fargli la proposta ce l'avevo con me quando abbiamo fatto la sera non so se avete visto il video avevamo fatto una cena organizzata sulla spiaggia super romantica con un cuore lì cioè era il momento perfetto ero abbastanza cioè ho pensato ok ora glielo do ce l'avevo in borsa poi ho pensato che no meno male ho pensato che no per due motivi meno male uno perché la voglio la volevo ricevere io la proposta proprio la volevo ricevere io e poi io sapevo che lui avrebbe avuto piacere a farmelo e che se lo avessi fatto io gli avrei tolto tanto sì assolutamente non so come sarebbe andata a finire molto benissimo cioè secondo me cioè più per il oddio no sarebbe stato brutto la cultura sarebbe stato brutto io sapevo che era comunque una cosa che nel momento in cui sarebbe si sarebbe sentito pronto e qui entro anche in un altro argomento che è pronto sia emotivamente ma anche economicamente per quanto riguarda professionalmente esatto per quanto riguarda esatto per quanto riguarda il lavoro anche le prospettive di vita il fatto di organizzare poi tutto il resto cioè per lui quell'anello o questo anello e la proposta non significa solo un oggetto che ti do e poi le promesse eccetera ma è significa tanto di più è proprio il frutto di tanti anni di lavoro è il frutto di tutta la dedizione tutto l'impegno che ha messo cioè è un simbolo a che a livello personale per lui significa tanto quindi anche riflettendoci ho detto ma perché io gli devo togliere tutto questo e questo è benissimo e quindi non l'ho questo che mi ami mi vuoi sposare l'ha detto Silvia però è esattamente così cioè in quel momento preciso poteva essere scontatissimo però poteva essere un'idea fatto sta che professionalmente parlando e a livello anche boh vita insomma un anno che stavamo qui nel loft non avevamo cioè addirittura l'anno prima volevamo andare sei mesi in viaggio però insomma è un pochino questo i nostri progetti erano diversi e quindi non mi sentivo in quel momento di dover pensare a questa cosa e quindi io glielo ho dato il giorno dopo in una serata molto più tranquilla e quindi ho detto guarda io ho un regalo per te questo anello ma non significa nulla è solo un anello perché so che ti piacciono i anelli è anche molto maschile cioè non è che c'è un brillante e cose del genere e poi dovete sapere che la sua reazione appena l'ha messo il primo anello della sua vita dopo un minuto mi sento soffocare io allora io ho detto perfetto io non so sarebbe stato un disastro non ho mai sofferto di claustrofobia ma vi garantisco che avere quell'anello al dito che magari era tendenzialmente un pochino stretto perché era agosto le dita si gonfiano rispetto all'inverno e quant'altro si era maggio però era molto caldo però anche se magari era tendenzialmente un po' strettino ma era l'idea di essere un po' stretto avere quest'anello raga stavo malissimo in aereo è stato impossibile tenerlo ci ho provato in aereo dove ti si ingrossano ancora più le mani quindi io me l'aspettavo l'anno scorso durante quel viaggio ma no mi sono impegnato vedi bello bello anche così ho aspettato un anno e mezzo un po' delusione un po' delusione ma è ancora più bello quando invece poi lo ricevi poi ora passiamo alla progettualità e poi basta direi che dove come quando dove come quando dove Toscana Toscana a l'ambio raga cioè la base Toscana lontano dalla Toscana mai Silviamo alla Toscana io sono Toscano ci siamo incontrati lì le persone che verranno che per ora ci siamo fatti un'idea sono poche Lombardia Toscana e poche molto poche dai in realtà quasi solo tua mamma dal Veneto perché poi no 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 allora poi gli invitati che abbiamo già un po' fatto una sorta di lista è la prima cosa che abbiamo fatto il giorno della proposta siamo tornati a casa siamo tornati a casa l'avamo in un airbnb ci siamo messi sul letto allora chi parlo di quando parlo di matrimonio quando faccio vedere qualche foto immagini inspo cosa che ho sempre fatto in questi anni per lui mi rispondeva chissà vedremo buona ora finalmente mi fa questo nome studiamolo carino questo bello questo no che ha il suo pro e il suo contro questa situazione però quindi Toscana chiaramente scherzo 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 pochi invitati siamo sugli come quanti hanno chiesto boh vabbè che brezza ve lo dico pochi perché è un matrimonio piccolo 70-80 massimo ma secondo me taglieremo sì non so quanto però sì tanti amici cioè su 70 sono 50 amici un buon 50% sono principalmente no un po' di più sono amici sì è vero parenti proprio periodo giugno 2026 quindi io sto tirando per maggio però per inaugurare ufficialmente la stagione del matrimonio maggio è freddo però potenzialmente metà giugno 2026 quindi abbiamo un annetto e mezzo per la preparazione e basta quindi ora siamo in fase di ricerca un po' ville ricerca anche wedding planner e sì voglio una wedding planner ora ho iniziato a parlarne su instagram alcuno mi ha scritto oddio no ma la wedding planner oddio no raga cioè non riesco a gestire me stessa di sicuro o meglio noi ne abbiamo parlato già allora abbiamo deciso giugno 26 perché bene ma noi abbiamo troppi altri progetti per poterci stare dietro continuamente io ora ve lo dico ma voi sapete cosa succede circa ogni tre anni in questa famiglia e ci sta iniziando a venire il solletico che ha orecchie per intendere in tenda ma stiamo già iniziando a guardarci intorno per qualcosa c'è un disagi che poi c'è un jinx spoiler no però dà un bel indizio c'è un po' c'è un problema qui no di olipopo gli unisce però no insomma quindi sappiamo come tenerci occupati e giusto giusto per dire che comunque una cosa la wedding planner non è una persona che ti dice che cosa devi fare ti impone delle cose ti impone dei fornitori non è quello che vogliamo noi non è quello che cerchiamo noi almeno non è quello che noi sceglieremo quindi ora nella ricerca della location sì ci muoviamo un pochino noi perché comunque è molto una volta vista una volta ti piace ti deve colpire però poi insomma cercheremo diverse figure e insomma io sono molto contenta in realtà di potervi portare d'ora in poi in questo lungo bellissimo percorso tutto nuovo per noi che ci porterà da oggi si può spollerare da quando si andrà a vedere le prime no perché non si sa c'è avuto un preventivo e si è subito messo a parte che c'entra va bene ok però insomma da dicembre dai a dicembre non riusciamo ad andare prima ma secondo me nel periodo proprio natalizio il 27 28 inizia vabbè ok ci diamo appuntamento lì raga ok va bene l'ha venita a vedere anche voi inizieremo ad andare in quel periodo perché prima non riusciamo va bene cosa e poi partiamo mi asciuga e poi partiamo e poi partiamo e poi partiamo ma per dove nel frattempo abbiamo un e Sri Lanka Malesia oh e Sri Lanka scusa il tuo Sri Lanka nel frattempo il nostro viaggione di gennaio ovviamente non lo non lo perdiamo di vista dobbiamo cominciare comunque a organizzare anche lui abbiamo preso sui voli come al solito quindi insomma fan times basta non ci sono altre domande sul dopo no amore basta ma aspettavo qualcosa ma sul dopo non è che c'è molto allora buffe no che buffe vuoi basta basta è troppo lungo questo video dai faremo un secondo allora faremo un secondo video su tutte le altre domande inerenti a ma poi per ora c'è poi idee infatti ma faremo un video sulle idee per il nostro matrimonio quello sicuro insomma ci sarà un po' da divertirci e condivideremo con voi quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto di avervi fatto un pochino divertire con i nostri mille mila disagi e le sue mille mila parole e basta noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi cantiamolo tutti in faro ma scherzi Jimmy Jimmy ha cacciato l'anello Jimmy Jimmy ha cacciato l'anello uuuu uuuu